Nelle prossime settimane la Fiorentina potrebbe seriamente cambiare totalmente la sua configurazione in attacco, infatti sia Cabral che Jovic sono lì per lasciare la squadra, o quantomeno queste sono le forti intenzioni di Viola. Tant'è che si sta parlando di un ritorno addirittura di Jovic alla Stella Rossa, Cabral è un pochino più facile da piazzare, per Jovic inoltre ci sono anche degli interessi della Turchia. Inoltre in queste ultime ore si è fatto forte l'interesse di Viola per Nzola e per il profilo del quale vi parlerò in questo video, vale a dire, Lucas Beltran, centroavanti classe 2001 del River Plate. Ovviamente non vi parlo di Nzola, ma vi parlerò esclusivamente di Beltran, semplicemente perché comunque è il giocatore meno conosciuto, diciamo così. Ovviamente, piccolo spoiler, vi riserverò appunto un video di presentazione anche di Oliver Christensen, il portiere classe 99, che appunto dovrebbe approdare la Fiorentina per duellare con Terracciano. Di base, qualora sia Nzola che Beltran dovrebbe sollevare a Firenze, comunque sembra una cosa anche abbastanza logica, perché? Perché Cabral e Jovic sono due profili di attaccanti comunque molto diversi, ma di contro anche Nzola e Beltran, che sono due tipi di attaccanti completamente diversi, ma sono, diciamo, assimilabili a Cabral e a Jovic. Beltran un po' più simile a Jovic, Nzola un po' più simile a Cabral. Beltran che appunto dovrebbe arrivare a Firenze per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi, e dovrebbe firmare un contratto quinquennale. Dovrebbe anche essere bruciata la concorrenza del Benfica. In questo caso fortissima, importantissima, la mediazione di Burdisso, che insomma, argentino, con argentino, e quindi insomma, evidentemente appunto l'ex difensore dell'Inter della Roma ha saputo, convince il giocatore appunto a optare per Firenze. Ma chi è questo Lucas Beltran? Un giocatore che è appunto classe 2001, attaccante, 176 centimetri, cresciuto calcisticamente nel River Plate, poi nella stagione 2022 ha militato in prestito al Colón. Vi ricordo che la stagione in Argentina è paragonabile a quella, ad esempio, in Brasile, o in Svezia, o in Norvegia. Quindi, di sua della voce, ha stagione sovrapposta, vale a dire, insomma, che inizia nella prima parte dell'anno e finisce nell'ultima parte dell'anno. Ma che dire appunto Lucas Beltran? 2001, 176 centimetri, un giocatore di baricentro regolare, non è il classico giocatore un po' più piccolino, a baricentro basso, e che fa insomma della velocità e della rapidità di esecuzione la sua arma forte. Un giocatore che sa anche giocare molto bene sul fiole fuorigioco, che ama la profondità e che comunque sa legare anche molto bene i reparti. Buona tecnica di base, lui è destro di piede, e soprattutto nella stagione 2023 ha dimostrato un ottimo feeling appunto con il gol, perché comunque nella stagione 2023 ha disputato 34 partite, 16 gol e 4 assist. Quindi, bene o male, più o meno, un gol ogni due partite. Una bella media. Ci da dire che questa è la prima stagione nella quale Beltran ha mostrato un grandissimo feeling con il gol, perché comunque al Colón, ancora prima a River Plate, era un po' minore il suo rapporto con il gol, ma stiamo parlando sempre di un classe 2001 e a quest'età ti basta un'annata fatta bene per magari switchare a livello mentale e comunque aumentare la tua qualità di prestazione. Inoltre avevo un contratto con scadenza il 31 dicembre 2025, quindi neanche a brevissima scadenza, neanche lunghissima, però insomma, più in questi casi per i giocatori giovani ci si avvicina all'ultimo anno di contratto, meno è la forza contrattuale o meno più debole è la forza contrattuale del club d'appartenenza. Inoltre è argentino, ma non occupa neanche lo slot di extracomunitario, perché lui come seconda nazionalità ha appunto quella italiana. Andando a vedere un pochino di statistiche, il totale tiri 47, importa 25 con un tasso di precisione del 53.2%, molto importante anche vedere il numero di cross 14, perché nonostante sia una punta piccolina, molto all style, è uno che comunque, sebbene non abbia giocato spessissimo d'ara, a volte ha giocato un po' dalla sinistra, un po' dalla destra, in un 4-2-3-1, però è proprio, diciamo, sono quei numeri che non fanno statistica. Perché magari ha giocato da una parte due volte, dall'altra parte tre volte, come punta, 80 volte, è normale che poi quei numeri non fanno statistica, magari è stato un discorso un po' più di esperimento o di necessità. Ma comunque, nei movimenti offensivi, è uno che, ricordo un pochino Michael Owen per le movenze, però rispetto a Owen, che era molto più punta centrale, Beltran è più moderna, quindi tende anche un pochino a svariare. Ripeto, per una punta centrale, 14 cross non sono assolutamente pochi. Una bella velocità, sia sul breve che sul lungo. Come vi dicevo prima, un normolineo, dà la buona muscolatura nella parte inferiore del corpo, ma non così per tonica, stile Shakiri. Quindi che succede? Non lo rende un paracarro. È un giocatore più agile che potente. Quindi può lavorare ancora un pochino, ma bisogna fare attenzione, perché quando poi dovesse mettere molta più massa muscolare, cambia il metodo di giudizio del giocatore stesso. Non si può più valutare sull'agilità, ma sulla potenza, sullo scatto, sullo sprint. Sa lavorare bene con il corpo, usando il baricentro, superando l'avversario facendo perno, appunto, con il bacino. Sono un giocatore interessante. Inoltre c'è una percentuale di 2.71 tiri a partita. Ci sono percentuali maggiori, il 3.33 di Brenner, il 3.37 di Saxen, il 3.37 di Duke. Quindi questo cosa vi fa capire? Essendo un attaccante moderno e a volte tipico, quindi a chi gli piace anche partire un po' più basso, dare la manovra, è normale che ti va a concludere un po' meno in porta. È un centroavanti, appunto, piccolino, ma un po' più di manovra, piuttosto che uno che ti alleggia nell'area di rigore. Ecco, in questo caso magari Jovic è un po' più centroavanti. Però, insomma, Beltran è il profilo che a livello fisico, a livello di caratteristiche, gli si avvicina un po' di più. Soprattutto perché è più giovane, ovviamente, Beltran, e viene da una stagione molto positiva, mentre comunque Jovic veniva già una stagione negativa comunque al Madrid, perché dopo che aveva lasciato, se non ricordo mai, l'Aintra Francoforte, quelle supermedie sono calate dal Madrid. Dal Madrid a volte tomba dei talenti, come appunto magari Jovic, come è stato anche Martino Eurigori, che poi fondamentalmente si è ricreato all'Arsenal, ancora prima in presso di Spagna, poi all'Arsenal, ha riscoperto questa vena. Inoltre c'è anche una buona percentuale di prigione nei passaggi, 71.3, che non è affatto male, è appunto un foriero appunto della conferma, che sia un centro avanti rischiettamente di manovra. Ecco, a livello di apporto alla manovra offensiva, è un po' più simile a Cabral da questo punto di vista, Cabral è un po' più di manovra rispetto a Jovic, però insomma è un bel crossover. Inoltre 5 fuorigioco, appunto in 34 partite non sono assolutamente male, un giocatore che ha un ottimo timing di scatto, che sa tantissimo sfruttare la profondità e soprattutto gli spazi, oltre che a crearli, li sfrutta molto bene, sfrutta veramente tanto bene. Quindi potrebbe essere un innesto molto interessante per la Fiorentina, è vero, lui è abituato a giocare nel 4-2-3-1 dell'Iver Plate, la Fiorentina gioca con un 4-3-3, ma la Fiorentina ha questa mezzala sinistra, che è Buonaventura, molto atipica, quindi che fondamentalmente in fase di possesso avanza il suo raggio azione. Comunque, appunto in fase di possesso, la mezzala che va ad avanzare il suo raggio azione, cambiando i movimenti di centrocampisti centrali, si va comunque a formare un 4-3-1, non generale, ma in fase offensiva, in più lui avendo un'ottima tecnica, potrebbe dialogare tranquillamente appunto con il Buonaventura della situazione, perché sullo stretto è veramente tanto bravo. Una cosa che gli si deve dire, l'attaccante moderno deve saper utilizzare bene il piede debole, lui invece il sinistro, meh, insomma, e può anche migliorare i duelli in area. I duelli in area perché su due ne perde più di uno, andando a fare le medie, diciamo, cioè ne vince 0.60, se non ricordo, a partita. Quindi in area, d'accordo che non è fisico, però deve, secondo me, dal punto di vista dei contrasti, in fase di pressing si usare bene il corpo, in fase dei contrasti, però è uno che comunque, avendo appunto l'abilità bravo in dribbling, bravo nelle sterzate, essendo agile, ti aggira l'avversario. Però a contrasto uno contro uno, deve essere un po' più tosto, un po' più arcinio. Sicuramente una conformazione fisica di Tevez, che era veramente molto più arcinio di lui, però, insomma, la tipologia di giocatore è un po' simile da questo punto di vista. Quindi una prima punta piccolina che ti fa gioco ma sfrutta a profondità. Ovviamente, fatemi sapere, qui sotto, cosa ne pensate? Ah, l'ultima cosa. Ipotizzando, italiano volesse schierare due attaccanti? Beh, Mzola e Beltran si possono amalgamare molto di più che Gabriel e Jovic, schierati insieme. Fatemi sapere appunto qui sotto cosa pensate, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!